Questa sera pappardelle con gamberoni e ciliegino. Da un lato ho fatto soffriggere un po' di cipolla, ho aggiunto le teste dei gamberoni che ho fatto sfumare con un po' di vino bianco, ho aggiunto un po' di ciliegino e ho fatto cuocere per 10-15 minuti con coperchio. Dopodiché, schiacciando le teste, uscirà tutto il succo che utilizzerò per condire la pasta. Ho aggiunto un po' di ciliegino e ho aggiunto un po' di ciliegino e ho aggiunto un po' di ciliegino. Nel frattempo, dall'altra parte, ho fatto soffriggere un po' di cipolla o uno spicchio d'aglio. Dopodiché, ho aggiunto il resto dei pomodorini. Non appena i pomodorini si sono appassiti, ho aggiunto i gamberoni. E' fatto, sto facendo cuocere per qualche minutino. Dopodiché, questo sughetto è pronto ai gamberoni. Adesso aggiungerò... Se ci vuole, per passare questo sughetto, ho passato pure. Finiamo di cuocere per qualche... mezzo minuto. Questa è la grandezza dei gamberoni. Lasciamo cuocere qualche altro secondo in più. A parte, invece, ho messo la pentola per la pasta, dove cuocerò le pappardelle. Due minuti prima della fine di cottura della pasta, aggiungerò la stessa in questa padella. E aggiungerò come ultimi ingredienti finali una spruzzata di prezzemolo fresco e un po' di scorza di limone. E per darle pronte, buon appetito!